Non ho mai visto niente del genere. Per me è come se fosse sempre la stessa donna. Che cosa fareste per fermare un serial killer? Abbiamo una ricca casalinga e una manager di un'importante società, con abitudini diverse, e fra loro non ci risulta un collegamento. Come affrontereste il mondo dell'assassino? C'è un gruppo di donne a cui piace incontrarsi senza uomini. Di tre donne che si conoscevano tu sei l'unica che è rimasta viva. Ma cos'è una confraternita di lesbici? Sareste capaci di superare limiti che non riuscite neanche a immaginare? Non hai nemmeno un po' di curiosità. Noi presumiamo che in quel gruppo ci siano solo vittime potenziali, ma non può esserci anche l'omicida. Vuoi dire che dobbiamo cercare una donna? Ci trucchiamo un po' il viso ora. Il detective Catherine Palmer è pronta a tutto pur di scoprire la verità. E qual è la chiave dell'enigma? Fare male, seguiamo le persone che amano il sesso violento. In un gioco di morte che ha regole a lei sconosciute. Fermati! Ti piacerebbe che ti legassi Mary? Lui le conosceva. Mentre Catherine indaga su efferati delitti... Quali sono le tue fantasie? Dimmi cosa nascondi. Deve resistere al richiamo della perversione. No! Non sai cosa si può fare con un semplice oggetto da cucina. Ellen Bucking Julian Sells Peter Wilson Dove la passione non ha limiti... È solo un gioco perverso. ...non c'è speranza di trovare pietà. Mercy Pu elemento di chiare come un momento. Per quello che si fa si è fermato perché... Il bambino era oltre.